Continua la trasferta romana per l'agente segreto più famoso del mondo. James Bond, interpretato da Daniel Craig, per quasi tutta la notte ha sfrecciato a bordo della sua fiammante Aston Martin grigia metallizzata su Corso Vittorio Emanuele. Dopo il primo ciacca all'Eur, nei pressi del Museo della Civiltà del Lavoro, nei giorni scorsi le maestranze si sono spostate sul lungo Tevere in via del Colosseo e poi a Ponte Sisto. La troupe che sta girando Spectre, ultimo film della serie 007, questa notte ha lavorato da alcune scene d'azione in corso rinascimento. Gli orari e i dettagli sui luoghi delle riprese sono però top secret. Unica certezza è che domenica 8 marzo, dei viali a Gorizia a Porta Pia, si svolgerà uno dei tanti inseguimenti rocamboleschi in auto. Le scene saranno ancora una volta girate in notturna, dalle 22 alle 6 di mattina e per motivi di sicurezza il traffico sarà bloccato. A proposito di traffico, dopo le polemiche e i disaggi dovuti alla chiusura di alcune strade nel corso delle riprese, è arrivata la replica del presidente di Roma Film Commission, Luciano Sovena, che quantifica in 16 milioni di euro le entrate legate al film, calcolando anche le maestranze romane impiegate ed il costo dell'occupazione del suolo pubblico, che dovrebbe portare nelle casse del comune circa un milione di euro. Il prossimo ciacca sarà a Prati, ma senza il protagonista Daniel Craig, che questa mattina è stato fotografato all'aeroporto di Fiumicino. Secondo un tamploid britannico, si sarebbe infortunato ad un ginocchio durante alcune riprese e sarà lontano dal 7 per un po' di giorni.